Il mondo ha conosciuto, tramite il film di Ermanno Olmi, Terra Madre o qualche servizio televisivo, la fantascientifica, ma anche semplice, attività dello Svalbard Global Seed Vault, in italiano Deposito Sotterraneo Globale dei Semi, nel lontanissimo arcipelago artico delle isole Svalbard, a circa 1200 chilometri dal polo nord. L'opera, totalmente finanziata dal governo norvegese, mira a salvare la cosiddetta tradizionale banca genetica. Si pensa che al mondo esistano un milione e mezzo di distinti semi di raccolti alimentari. Se questa fosse una fiabba, e il un po' buffo aiuta a immaginare scenari di carta pesta, dovrebbe iniziare così. C'era una volta il monococco. Ma la realtà ci dice che il monococco esiste ancora, e nella pianura bresciana c'è chi si adopera per rendere questa archeologia delle sementi un presente alimentare. Un caso, non il solo, ma interessante, di recupero della tradizione e del tempo. Un salto indietro, a più di diecimila anni fa, che ci fa ritrovare il Triticum monococum, il nome botanico del monococco, o farro piccolo. E uno in avanti, e siamo ad oggi. Sempre pianura bresciana, stesso seme, stessa storia. Una fondazione, pianura bresciana, coadiuvata dalla cooperativa sociale agricola L'Antica Terra, braccio operativo della fondazione stessa, che si è occupata della coltivazione in campo del monococco, dal consorzio Aliment, dal cast Alimenti, dalla forneria Regonini e dal pastificio Tradizioni Padane. Tutti questi stanno cercando di ridare a questa varietà una nuova vita che parte dai campi e arriva dopo mietitura a farina, birre, biscotti, pane e altre trasformazioni. Tra Sant'Angelo Lodigiano e Cigole, in provincia di Brescia, nella pianura lombarda, ma anche a Roma, si cerca infatti di rinverdire con una specie di miracolo del tempo il passato di questa cultura antica. A riprova della sua antichità, vale ricordare che del monococco sono state trovate tracce persino nello stomaco e nell'intestino congelato di Ötzi, l'uomo riapparso dopo 5.000 anni dal ghiacciaio del Similaun, in alta Val Senales. Conferma del ruolo fondamentale di questo frumento nella dieta dell'uomo dell'età del rame. Altri segni della coltivazione in tempi lontani del monococco sono giunti dagli scavi della necropoli di Remedello, nella bassa Bresciana. Insomma, questa varietà di frumento è autoctona e antica e il progetto di ridarne una nuova giovinezza ha il doppio vantaggio di essere una novità e una riscoperta insieme, importante naturalmente per la salute.